ciao a tutti amici di cenofoniaci.com oggi sul nostro canale youtube vogliamo proporvi una videoconfronto fra questi due tablet di fascia medio bassa che abbiamo avuto modo di acquistare del Gearbest ad un prezzo che si aggira intorno ai 60 euro stiamo parlando di due tablet teclast in particolare abbiamo il teclast p80h e il teclast p80 tablet che dovrebbero appartenere alla stessa linea di dispositivi la linea teclast p ma che in realtà montano componentistiche hardware diverse anche il design generale è davvero molto diverso infatti la principale differenza fra questi due dispositivi è il processore che li fa muovere perché sul teclast p80 troviamo un processore intel sofia come potete vedere dal logo mentre sul teclast p80h troviamo un processore mediatek di cui andremo a parlare più in specifico più tardi prima di andare a parlare un attimo del design vorrei fare un appunto per quanto riguarda gli accessori che sono inclusi all'interno di questi due tablet teclast perché secondo me l'azienda ha fatto la scelta molto discutibile di risparmiare un po troppo sugli accessori che ci vengono forniti infatti non è presente all'interno il confezionamento di entrambi i tablet il cavo di ricarica e il caricabatterie da muro e questo fa sì che l'utente finale sia costretto ad andare a comprare un caricabatterie esterno al prodotto e quindi spendere altri soldi se vuole fruire di questo tablet che ha appena comprato scelta quindi abbastanza discutibile a mio avviso per quanto riguarda invece il design passiamo adesso ad analizzare un po meglio i due dispositivi e partiamo dicendo che sono entrambi due dispositivi con una display con diagonale da 8 pollici di cui andremo a parlare un po più avanti per quanto riguarda l'aspetto un po più tecnico andiamo a prendere quindi il teclast p80 in mano e andiamo a vedere come è composto teclast p80 che è composto completamente in abs dietro la qualità del della back cover devo dire che abbastanza accettabile non ha quella se non dà quella sensazione di plasticone tipica dei tablet di fascia medio bassa devo dire che anche la finitura diciamo 3d che permette un miglior grip e quindi permette al dispositivo di essere antiscivolo è abbastanza gradevole sia alla vista che al tatto troviamo qui sempre sulla back cover la fotocamera posteriore da 2 megapixel poi troviamo nella parte inferiore la doppia uscita per lo speaker che è unico troviamo su uno dei lati l'ingresso per la micro sd e l'ingresso per la scheda sim perché come abbiamo detto questo tablet supporta le schede 3g e con le reti anche italiane per quanto riguarda invece la parte superiore troviamo un jack standard da 3,5 mm e poi il cavo di ricarica micro usb dall'altro lato troviamo invece il bilanciere con il tasto unico per il volume e il tasto power per accendere e spegnere il nostro dispositivo nulla dal tasto nella parte inferiore se non il microfono per la soppressione dei rumori per quanto riguarda invece il teclast p80h non troviamo più nella back cover quel design antiscivolo ma una cover completamente completamente liscia sempre bianca devo dire che questa cover è molto più scivolosa rispetto a quella del teclast p80 e infatti il dispositivo tende se non ci stiamo troppo attenti e se lo teniamo soprattutto con una mano tende un po' a scivolare per quanto riguarda sempre quello che troviamo nella back cover troviamo una fotocamera posteriore sempre da 2 megapixel la singola uscita per l'audio che poi vedremo essere abbastanza scarso e poi troviamo sempre nella parte superiore troviamo l'ingresso per la micro sd il jack standard da 3,5 mm la bocchetta per la ricarica micro usb e poi troviamo l'aggancio hdmi perché questo dispositivo può essere collegato anche ai nostri televisori nella parte sinistra nella parte destra troviamo il bilanciere del volume sempre a tasto unico e poi il tasto per power per l'accensione e lo spegnimento nient'altro invece negli altri lati nella parte anteriore dei due tablet troviamo in entrambi una fotocamera da 0,3 megapixel che diciamo non è celsa ma comunque fa il suo lavoro che è quello di poter far chattare l'utente tramite applicazioni come skype o hangout andiamo a parlare prima di accendere i nostri tablet un po' delle specifiche e partiamo dal nostro Teglast P80 come abbiamo detto monta uno schermo da 8 pollici con risoluzione 1280x800 abbiamo a supporto del dispositivo 1 gigabyte di ram e 8 gigabyte di memoria interna il tutto è mosso da una cpu come abbiamo detto intel sofia in particolare parliamo della cpu c3230 che è un processore a 64 bit quad core con un clock di 1,2 gigahertz inoltre abbiamo una batteria da 3500 mAh che ci permette di utilizzare per qualche ora il nostro tablet Teglast P80 per quanto riguarda invece le fotocamere di cui vi abbiamo parlato prima abbiamo una fotocamera anteriore da 0,3 megapixel quindi diciamo la qualità non è celsa soltanto per le videochiamate se possiamo dire e poi abbiamo anche la fotocamera posteriore che è invece di 2 megapixel con autofocus quindi neanche questa a grandi pretese diciamo che sono fatte più per le videochiamate ad esempio su skype o su hangout che per fare delle foto che evidentemente sarebbe meglio fare con altri dispositivi per quanto riguarda le altre caratteristiche il Teglast P80 ha il supporto alle reti 3G anche italiane inoltre ha il supporto ovviamente alla tecnologia wifi e bluetooth 4.0 ha basso consumo energetico e inoltre ha anche la funzione GPS che ci permette di utilizzare il tablet come navigatore andiamo a parlare invece adesso del Teglast P80H che invece come abbiamo detto monta una CPU Mediatek in particolare abbiamo la MTK8163 che è sempre una CPU quad core a 64 bit con un clock invece di 2,4 GHz quindi il doppio rispetto alla controparte Intel inoltre la GPU è una Mali T720 che come abbiamo visto anche sui processori mobile Mediatek riesce a dare un'esperienza di utilizzo abbastanza decente per quanto riguarda le applicazioni quindi riesce a far funzionare, a far girare la maggior parte delle applicazioni presenti sul Play Store senza nessun tipo di problema anche questo è un dispositivo con uno schermo da 8 pollici in formato 16 decimi con una risoluzione 1280x800 e anche questo è un display IPS la batteria invece come il Teglast P80 è di 3500 mAh e anche per questo dispositivo riesce a dare un discreto tempo di utilizzo per quanto riguarda invece le memorie abbiamo sempre una memoria da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna mentre la fotocamera come nel precedente è 0,2 megapixel per la fotocamera anteriore e 2 megapixel per la fotocamera posteriore scusate che dire? passiamo adesso a vedere come si comportano i due dispositivi una volta accesi per quanto riguarda le prestazioni dei due dispositivi ho deciso di creare una checklist di test da farvi vedere in modo da farvi capire quali sono le reali capacità di ognuno dei due tablet e soprattutto farvi capire quali sono i limiti di questi due tablet perché abbiamo detto sono tablet abbastanza economici di fascia medio-bassa andiamoli a sbloccare e andiamo subito a vedere innanzitutto il test classico per eccellenza che è AnTuTu Benchmark quanto ci ha restituito come possiamo vedere i valori dei due tablet sono abbastanza differenti e se ne vince che il Teclast P80H ha delle prestazioni sicuramente migliori rispetto alla controparte con il processore Intel diciamo che questa differenza fra i due punteggi è abbastanza visibile anche nell'esperienza di tutti i giorni quando andiamo ad utilizzare le applicazioni sicuramente il nostro Teclast P80H si comporta in maniera molto migliore rispetto alla controparte con il processore Intel e quindi questa differenza di punteggio non è soltanto una differenza che ne deriva dal test benchmark di AnTuTu però è anche una differenza che si può intravedere nell'utilizzo di tutti i giorni dei due dispositivi andiamo a vedere, spostiamo un attimo così perde il riflesso andiamo a vedere qual è la qualità grafica dei due display perché abbiamo detto sono display 8 pollici con un formato di risoluzione 16 decimi e andiamo a vedere come si comportano se andiamo a vedere la stessa immagine andiamo a prendere queste immagini e a ruotare i dispositivi andiamo a farvi un po' capire andiamo a zoomare tanto diciamo subito che è un'immagine in 4K e potete vedere anche dal video che la resa cromatica dei due display è sicuramente differente infatti vediamo colori molto più vividi e molto più simili a quelli che dovrebbero essere nell'immagine originale rispetto al Teclast P80 il Teclast P80 acqua quindi risulta sicuramente migliore per quanto riguarda la resa cromatica del display vi faccio vedere un po' più da vicino potete vedere che la resa cromatica e la nitidezza e la saturazione dei colori è diversa fra i due dispositivi inoltre per quanto riguarda la renderizzazione delle immagini in 4K devo dire che il Teclast P80H con la sua Mali T720 si comporta in maniera sicuramente migliore per quanto riguarda la velocità di caricamento di queste immagini che comunque hanno una risoluzione abbastanza pesante di 4K quindi 4.000x4.000 sfida vinta quindi dal Teclast P80H sia per quanto riguarda le prestazioni come forza bruta sia per quanto riguarda la resa cromatica del display che è molto migliore rispetto alla controparte del Teclast P80 con CPU Intel andiamo a vedere adesso come è la risoluzione delle due fotocamere posteriori montate all'interno dei due tablet Teclast ricordiamo che sono due fotocamere da 2 megapixel ciascuna e a vedere quale si comporta meglio rispetto all'altra per farlo andiamo ad utilizzare il nostro Mini Iron Man e cominciamo subito dal Teclast P80 apriamo la nostra fotocamera come vedete nonostante la fotocamera non abbia non abbia tutti questi megapixel non dispiace comunque la risoluzione delle foto che fa sì certo non stiamo parlando di un dispositivo che è nato per fare fotografie esistono certamente certamente dispositivi migliori per quanto riguarda lo scatto delle foto andiamo a vedere un po' faccio vedere queste foto poi le metterò all'interno dell'articolo in modo che potete visionarle anche voi stessi la qualità non è eccessa però diciamo che almeno si capisce qual è il soggetto andiamo a sbloccare di nuovo il Teclast P80H proviamo anche con questo dispositivo il test fotografico devo dire che per quanto riguarda il Teclast P80H come potete vedere facciamo pressoché le stesse foto devo dire che la risoluzione della fotocamera sembra leggermente migliore per quanto riguarda questo dispositivo l'autofocus sembra essere di qualità maggiore le foto sul Teclast P80 risultano alcune volte fuori fuoco vediamo se riusciamo a recuperarne qualcuno sul Teclast P80 le foto risultano molte volte fuori fuoco mentre il Teclast P80H riesce a mettere con maggior facilità gli oggetti a fuoco quindi vinta anche questa sfida dal Teclast P80H che nonostante sia sulla stessa fascia di prezzo riesce a prevalere su molti dei campi in cui stiamo facendo i test per quanto riguarda il comparto audio devo dire che secondo me questi dispositivi peccano tantissimo soprattutto il Teclast P80H che fa davvero fatica in quanto la qualità del suono che esce dallo speaker posteriore non è né elevata né tanto elevata il volume dell'uscita sonora questo secondo me è dato da un problema derivante da un errore di progettazione infatti troviamo nel Teclast P80H una sola uscita per il nostro speaker e questo penalizza secondo me in maniera anche evidente quella che è l'uscita audio di questo tablet in ogni caso entrambi non hanno un suono eccelso procediamo quindi con l'ultimo test che vogliamo mostrarvi per questo videoconfronto che è appunto la navigazione via browser stock andiamo quindi ad aprire i nostri due browser stock e a caricare il nostro sito scrivo su entrambi così vediamo anche la velocità di caricamento e andiamo a cliccare vediamo come vengono renderizzate le pagine tra questi due tablet Teclast P80H che è qualche secondo in vantaggio rispetto alla controparte con CPU Intel e non solo questo ma la navigazione generale che ne deriva dal Teclast P80H è migliore come potete vedere Teclast P80 normale soffre di qualche micro lag quando abbiamo un sito come il nostro con molte immagini mentre il Teclast P80H grazie alla sua Mali T720 non dà troppa sensazione di lag o di problemi nel renderizzare il nostro sito come potete vedere è molto più reattivo e fluido il Teclast P80H nonostante comunque la fascia di prezzo sia pressoché identica sfida vinta quindi dal Teclast P80H che riesce a vincere quasi tutte le sfide soprattutto per quanto riguarda le prestazioni fra i due dispositivi unica pecca di questo tablet economico è come abbiamo visto l'uscita audio veramente bassa che dire ci avviamo verso la conclusione e volevo farvi un appunto su questi due dispositivi se siete interessati ad un tablet Teclast di questa fascia che se giro ricordiamo intorno ai 60 euro vi sentirei di consigliarvi sicuramente il Teclast P80H che eccelle molto di più rispetto alla controparte con CPU Intel per quanto riguarda le prestazioni sia nell'esperienza utente minimale quindi launcher e appunto fruizione dei servizi internet quindi tramite browser sia per quanto riguarda l'avvio di applicazioni Android che risultano molto più fruibili e molto meno laggose scattanti rispetto alla controparte con CPU Intel quindi per me il consiglio è quello di acquistare il tablet Teclast P80H fra questi due anche perché nonostante la mancanza del modulo interno per il supporto alle reti 3G questo tablet riesce a fornire un'esperienza globale migliore e inoltre abbiamo anche la presenza della porta HDMI che ci permette di collegarlo alla nostra TV se vogliamo ad esempio guardarci un film tramite Netflix o applicazioni simili che dire quindi per questa recensione è tutto secondo me il Teclast P80H ha vinto molto questa sfida ha vinto di larga mano questa sfida vi sentirei di consigliarvi questo tablet se siete interessati ad un tablet di fascia medio-bassa che si gira intorno ai 60€ perché vale veramente la pena è la Mali T720 montata all'interno del processore Meditech non delude le aspettative dell'utente che vuole fruire della maggior parte delle applicazioni che trova sul Play Store per questo videoconfronto quindi è tutto un saluto da Simone e Cinafoniaci ciao